Come vincere la chitarra di Draco nella vita reale? Lasciate un mi piace e iscrivetevi. Ragazzi, vi rendete conto la chitarra di Draco nella vita reale? Pazzesco. Questo vuol dire che inizierò a prendere lezioni di chitarra se vincerò. Però la cosa negativa è che ci sarà solo un vincitore. Eh sì, sarà molto difficile vincere. Adesso andiamo a leggere tutti i dettagli. Le regole sono, prima di tutto bisogna seguire i loro profili social. Mettere mi piace al post. Condividere un bel video di gameplay in cui giochi con Draco. E assicurati di aggiungere gli hashtag al post. Contano anche i campi di allenamento. Pubblica il tuo video entro il 18 agosto. Guardate la chitarra, è bellissima. Stanno eseguendo questo giveaway su tutti i loro canali social. Attenzione come ho detto a inizio video. Sceglieranno solo un vincitore per la chitarra Draco e un kit merch Draco. Anche se non vinci, hai ancora la possibilità di far suonare il tuo video di gameplay dal vivo in un concerto dei Dragon Force. Ragazzi diciamo Draco 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 Draco. Adesso andiamo a aprire un po' di Star Drop e facciamo tante partite con Draco. Ragazzi buona fortuna per chi vincerà. Eppic 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 Sì, sì. Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì!